Oggi leggiamo Sono io il più forte di Mario Ramos. Un giorno un lupo, che aveva mangiato a crepapelle e quindi non aveva più fame, decide di fare una passeggiata nel bosco. È l'ideale per digerire bene, dice tra sé e sé, e quasi quasi ne approfitto per sapere cosa pensano di me gli abitanti del bosco. Incontra un grazioso coniglietto selvatico. Buongiorno, belle orecchie. Dimmi un po', chi è il più forte? domanda il lupo. Il più forte sei tu, padron lupo. Sicuramente e senza alcun dubbio, è certissimo, risponde il coniglio. Il lupo, tutto fiero, prosegue la sua passeggiata nel bosco. Mmm, come sto bene nella mia pelle, dice tra sé e sé, respirando il profumo delle querce e dei funghi. Incontra poi Capuccetto Rosso. Ma lo sai che questo colore ti dona? Sei proprio un delizioso bocconcino da sgranocchiare. Dimmi, mocciosa, chi è il più forte? le chiede il lupo. Sei tu, sei tu, sei tu, questo è certo, grande lupo, è impossibile sbagliarsi, sei tu il più forte, risponde la bambina. Ah, è proprio quello che pensavo, sono io il più forte. Mi piace che me lo dicano e me lo ripetano. Adoro i complimenti, non mi stancano mai, esulta il lupo. Incontra poi i tre porcellini. Cosa vedo? Tre porcellini lontano dalle loro case. È imprudente da parte vostra. Ditemi, cicciottelli, chi è il più forte? chiede il lupo. Il più forte, il più coraggioso, il più bello. Sei sicuramente tu, grande lupo cattivo. Rispondono insieme i tre porcellini. È ovvio, sono io il più feroce, il più crudele. Sono io il grande lupo cattivo. Hanno tutti una gran paura di me. Sono il re, esclama il lupo trionfante. Un po' più in là, incontra i sette nani. Ehi, ridicoli ometti, sapete chi è il più forte? chiede il lupo. Il più forte sei tu, signor lupo, rispondono i nani in coro. Ah, è chiaro, è deciso, è indiscutibile. Tutti lo sanno, sono il terrore dei boschi. Sono io il più cattivo tra tutti i cattivi, proclama il lupo. Incontra, infine, una specie di piccolo rospo. Ciao, orribile cosa. Suppongo che tu sappia chi è il più forte, dice il lupo. Sì, certamente, è la mia mamma, risponde quella specie di rospo. Cosa? Povera bestia viscida, miserabile carciofo, testa dura, cerchi rogne? Non ho sentito bene. Chi è il più forte, prego? Ma, te l'ho già detto, la mia mamma è la più forte, e anche la più buona, tranne con chi è cattivo con me, risponde il piccolo drago. E tu chi sei? Io, io, io sono il piccolo lupo buono, risponde il lupo, indietreggiando prudentemente.